Quanto accaduto all'arbitro Clemente Cortese della sezione AIA di Bologna, costretto ad un ricovero precauzionale in ospedale ad Agrigento a causa di una pallonata al volto, ha avuto uno strascico polemico perché è stata sospesa la gara tra l'Agragas e il Don Carlo Misilberi, caporista, sul risultato di 2-0 per gli agrigentini allenati da Giovanni Falsone alla fine del primo tempo. La rabbia del tecnico Falsone esplosa sui social. La recita è riuscita, ha scritto Falsone, forse diamo fastidio. La gara sospesa dovrà essere dunque recuperata ma si partirà dal risultato di 0-0. La società olimpica Agragas ha ricostruito l'accaduto. Il direttore di gara, Clemente Cortese, ha fatto rientro a casa nella sua Bologna dopo essere stato sottoposto agli esami di rito all'ospedale di Agrigento che hanno dato esito negativo. Le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni. L'arbitro, al termine del primo tempo della gara olimpica Agragas, Don Carlo Misilberi, non ha fatto più rientro in campo a causa di una violenta pallonata al volto che lo aveva lasciato stordito al quarantesimo minuto di gioco. Il fischietto bolognese era stato subito portato in ospedale con l'ambulanza per accertamenti che hanno fortunatamente dato esito negativo. L'arbitro non ricordava più nemmeno dov'era, era in completo stato confusionale. Dopo le cure dei sanitari dell'ospedale, l'arbitro si è ripreso e con il primo volo utile di domenica sera ha fatto rientro a casa. La partita, prima di essere sospesa, era sul punteggio di 2-0 per i Biancazzurri. Il match si dovrà rigiocare dal primo minuto. Le reti erano state segnate da Sant'Angelo e Settecase, enesima sconfitta. Invece per 3-0 della Libertas racalmuto al Salaci contro il Camarat sulla carta. Si trattava di uno scontro salvezza, ma questa Libertas sembra davvero non averne più, tanto che adesso rischia di essere sorpassata dal Borbugog nuovo, uscito con un buon pari da Villabate, rosicchiando un altro punto, riducendo a 4 le lunghezze della Libertas con lo scontro diretto da giocare a Palermo. Il Camarat, invece, con questo successo sente aria di salvezza. La Gattopardo, con il pirotecnico 4-4, tenuto in casa contro la Folgore, si mantiene ancora a galla per poter centrare la salvezza diretta. Il Castel Termini non va oltre l'1-1 in casa dello scorbutico Don Bosco Partinico e forse stavolta definitivamente abbandona i sogni play-off.